Su convocazione del Presidente Gianguido D'Alberto si è riunito il Comitato Ristretto dei Sindaci per confrontarsi con l'Asla di Teramo sullo studio di fattibilità del nuovo ospedale del capoluogo. La riunione è stata allargata anche al Presidente della provincia e ai sindacati. Nel corso dell'incontro i tecnici dell'azienda sanitaria teramana hanno illustrato il contenuto dello studio che prevede la realizzazione di un moderno ospedale da 101 posti letto, attualmente il sito più gettonato è Pianodaccio, da mettere in rete con gli altri tre ospedali SPOC di Giulianova, Atri e Sant'Omero. E se così fosse, cosa sarà del vecchio Mazzini? La posizione del Sindaco D'Alberto non lascia dubbi. Questo è quello che avevamo chiesto e continuiamo a chiedere con grande forza e che ci sia una pianificazione parallela e coordinata tra la rete ospedaliera e la rete territoriale. Sanità ospedaliere e sanità territoriale non possono non dialogare, così riusciamo a mantenere l'equilibrio e anche la presentazione di una sanità provinciale che non lascia nessun territorio indietro ma che punta con forza la centralità sanitaria di Teramo, città capoluogo. Ecco perché ho sempre detto, anche ieri ho ribadito, che non accetterò e non accetteremo mai una mera delocalizzazione del Mazzini. Il tema non è questo. Cosa diversa se invece ci viene presentato un piano, che poi è quello che abbiamo chiesto, che potenzi i presidi sulla città capoluogo. Quindi un nuovo ospedale, se dovesse essere dimostrato più opportuno sotto l'aspetto sanitario, realizzarlo in altro luogo, sempre in Teramo, città capoluogo, con l'area del Mazzini che in ogni caso non potrà assolutamente restare una cattedrale nel deserto, anzi deve essere potenziata sotto l'aspetto sanitario, valorizzando il territorio. Si parla di città della salute, all'interno della quale inserire la riabilitazione, inserire l'area formazione, il distretto di base, quindi un presidio sanitario forse ancora più forte rispetto a quello che attualmente è, oltre che alla cittadella della fragilità a Casalena. È chiaro che mi rivolgo con grande forza e determinazione alla Regione Abruzzo, il territorio sta discutendo e questo confronto si allargerà con una partecipazione qualificata, soprattutto dei sanitari, ieri erano presenti i rappresentanti degli operatori e tutti si sono espressi verso la necessità di un nuovo ospedale per l'innovazione tecnologica. La Regione deve assolutamente approvare immediatamente il piano della rete ospedaliera e territoriale a livello regionale, perché altrimenti questa discussione rischia di essere condizionata dall'assenza di chi deve poi assumere le decisioni di programmazione e soprattutto deve garantire la copertura finanziaria, perché il vero punto debole di questo percorso è dato proprio dalla necessità di trovare delle risorse ulteriori rispetto ai 120 milioni che abbiamo già a disposizione.